Nel vivo le celebrazioni per ricordare la visita di Papa Giovanni Paolo II a Caltanistetta nel 1993. Domani, giovedì 10 maggio, alle ore 10, il Vescovo Mario Rossotto incontrerà i detenuti del carcere Malaspina, proprio dove 25 anni fa il Papa si recò per portare un messaggio di speranza e misericordia. Tutto pronto intanto per questa sera, alle ore 19.30, nella piazzetta dedicata al Pontefice Polacco, si terrà l'iniziativa A te che sei passato tra noi. Giovedì, alle ore 17, la visita di 25 anni fa verrà ricordata da Fiorella Falci e Francesco Michele Stabile nella chiesa di San Sebastiano. Sempre domani, alle ore 19, concluderà la giornata l'unica messa in tutta la città, una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Russotto. Grazie a tutti!